Il Lucugliano d'oro alla celeberrima mezzo soprano Fiorenza Cossotto. Il Lucugliano d'oro alla celeberrima mezzo soprano Fiorenza Cossotto. Il Lucugliano d'oro alla celeberrima mezzo soprano Fiorenza Cossotto. E hanno tuttora uno dei punti salienti. Con una serenità e una rettitudine sulle proprie particolari. Ma penso un po' il merito devono dare anche agli altri miei professori. Adesso mi sento dire, oh ma come noi, come semplice, come normale. E le dico, perché non sono una persona normale? Io faccio il mio lavoro, voi fate il vostro, io faccio il mio. Cerchiamo di farlo nel migliore dei modi, ma insomma forse non è merito nostro o è merito... Io dico sempre che noi siamo le unile cele del genio creatore. Io faccio il mio lavoro, io faccio il mio lavoro, io faccio il mio lavoro... Io faccio il mio lavoro, io faccio il mio lavoro... Io faccio il mio lavoro, io faccio il mio lavoro... Io faccio il mio lavoro, io faccio il mio lavoro, io faccio il mio lavoro... Il titico londinese aveva sentito nei suoi tempi i lastignani e aveva detto queste bellissime parole nei miei riguardi. Adesso non lo so perché ho sentito nel passato un disco anche della Chloelmo... Chia... Il Lugugliano d'Odo... E... Al celebra che lo suga lada... Il soparamete, il soparamete... E... Io ringrazio... Grazie... ma c'è ancora uno non si sa mai sorridete i denti la luce è giusta venga pure per me spiega 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 spiega